resident evil for allora di là ho paura che ci sia gente quindi non andiamo oltre lettera di ada dopo che un nuovo un uovo di plaga si schiude è quasi possibile rimuovere dall'organismo prima che si avrà invece può essere neutralizzato nel mezzo di farmaci in casi estremi prima che il parazzita diventi adulto si può tentare di estrarlo chirurgicamente ma si tratta di un'operazione rischiosissima per quanto ne so la ragazza è stato iniettato un uovo prima che a te le rimane poco tempo bisogna prepararsi al peggio a se riferisce a esce quindi o madonna quindi mo ci si trasforma pure esce ma allora stranger si va bene allora prima no ho fatto una cappellata aspetta un attimo aspetta un attimo tesori allora volevo finire di di assemblare questo aspetta allora vediamo abbina a questo ok e verde rossa abbina a questo perfetto e verde verde rossa vedi già ce l'abbiamo messa quindi non penso che ce la rimette esatto perfetto adesso adesso possiamo vendere questa robina allora vendiamo no aspetta vendiamo munizione pistola 9 mm perché non ce l'abbiamo più tutte grazie anche questa della mitraglietta perché non ce l'abbiamo proprio la mitraglietta neanche un tensione di prendere perché mi sembra proprio inutile qui se no questa ecco la nostra bella pistolona potenza di fuoco 20 l'abbiamo potenziata e allora norme miss e occhio verde a sto punto lo possiamo anche vendere ce ne abbiamo cinque a meno che non troviamo un'altra cosa ma chi se ne frega vendiamo 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 anche quello rosso la lampada che è completa 32 mila per piacere thank you a te chiarissimo lo stemma reale trovi 10 mila e basta carissimo vediamo se possiamo ottimizzare qualcosa la bronchian butterfly velocità di ricarica ma io più che la velocità di ricarica la capienza 8 madonna 8 15 mila comunque sei un ladro possiamo dire che sei un ladro sei un ladro e vabbè no allora no aspetta meglio la velocità di ricarica ok ma fallova fucile antisommossa capienza no bene basta così grazie carissimo abbiamo speso anche troppo ci dobbiamo tenere tutto aspetta fammi risalvare se no poi perfetto grazie stranger noi andiamo incontro al nostro destino allora innanzitutto questa poi ah ma non c'abbiamo munizioni o porca o porca aspetta aspetta un attimo aspetta un attimo facciamo ordine dobbiamo comprare le munizioni per sta pistola ma io non le compro non ho capito si trovano in giro ma perché devo comprare risparmiamo tirchi siamo tirchi io e leo tirchi tirchissimi proprio no anche perché se se dovesse servire lancia granate poi tocca comprare un altro so 30 mila ogni volta si lancia razzi sbagliato allora qui invece abbiniamo ok vabbè andiamo avanti col fucilozzo non capisco perché mi si mette la visuale così a me mi urta il sistema nervoso proprio c'è nessuno veniamo in pace ah ancora sti villager maledetti ma io dico no qui c'è qualcosa lì sopra però prima dobbiamo fare esplodere il cervello a questo chi è oh chi è chi è scusi villager dove va oh ha preso fuoco ma non sono stata io ma come è successo che ha preso fuoco villager non ci dicano non ci dicano qui c'è qualcosa pesetas 2200 meno male e poi qui c'era qualcosa lo spinello che fa sempre comodo uno spinello questa visuale maledetta non la reggo qui c'è altre pesetas vedi villager ma scusate eh ma se io vado quassù faccio un barbecue di villager eh io penso che c'è sta tutta eh ecco vediamo qui se rivaggia vediamo un po' se funziona ma vaffallo volevo ma manco si sono accorti di niente niente proprio sto sprecato proprio allora ricarichiamo sono parecchi eh ma questi ci vengono tutti addosso no non ci vengono addosso non vedi che pirla che sono oh questo però verrà qua eeeh aspetta equipaggiamo questo equipaggiamo questo equipaggiamo questo anzi no adesso potremmo fare un bel barbecue però eh pensarci bene eh no no non rischiamo perché adesso ce l'abbiamo tutti troppo sotto vengono signori vengono vengono signori vengono che si si vendono proiettili a Google venite 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 pure anche i mostri sono i benvenuti mi scusi chi l'ha invitata a lei eh e andiamo se l'è morto vada via grazie avete finito bene scendo io adesso eh olè visto che ci voleva l'episeta dobbiamo prendere tutto tutto che dobbiamo vendere tutto quello che prendiamo eeeh mi sembra che basta c'è qualcosa? no qui c'è qualcosa? no ok ora possiamo proseguire Leo questa è l'unica porta quindi io aspetta aspetta ricarichiamo è chiusa ma va? c'è scritto offri il sacrificio al leone sì sarebbe ah mi sa che non ci abbiamo un pezzo non è possibile? e dove lo trovo il pezzo del leone? qui da queste parti? in zona? proviamo un po' vabbè qua c'è un granata da ciecanti oh ste granate da ciecanti proprio ah aspetta dobbiamo entrare qua dentro la scommetta aspetta vai olè allora speriamo che non c'è un serpente qui perché tanto me morde sicuro no vai miracolo ok allora c'è questo ruotare ruotiamo ruotiamo perfetto ah devo scendere perché lì il pezzo non ce l'abbiamo vabbè allora scendiamo leo senza indugio vai mmm ma dove siamo? ehm mi sento tanto Indiana Jones che ne dici leo? sembra eh? trappolone? c'è scritto più avanti riposano le offerte al leone bene si si Indiana Jones senza ombre di dubbio questo? si rompe? no c'è troppo silenzio ma anche troppo ruminare sento ruminare ah si villager cioè ma veramente stanno dappertutto oh madonna pure le trappole allora noi dobbiamo andare della chiaramente cos'è questo? lacrima viola? ma possiamo passare con uno sciolanzo? non tanto perché che c'è sta il trappolone non si passa già mi hanno visto? ci hanno visto? Leo che dici? ah facciamo così eeeh cecchiniamo 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 che ci frega cecchiniamo allora cecchiniamo il primo primo villager ko cecchiniamo il secondo che questo ci ci rilascia ecco sapevo io bene e ora non ci abbiamo più munizioni vero? no ce l'abbiamo perfetto zitto sta buono sta buono lì bravissimo visto? non è successo niente ce n'è uno anche lì dentro però no però da qua non lo vedo c'è anche qualcosa che sbrilluccica dobbiamo chiaramente passare da quella scala eeeh allora vediamo se lo becchiamo da qui tenendoci a debita distanza eccolo lì eccolo lì oh questo è quello della motosega non avrei noo porca d'una pacchaccia fermo così bravissimo sarà morto? dalla musica non si direbbe ha messo in moto ha messo in moto ha messo in moto quante volte si vuole rialzare? no dico perchè io sulla scala non ci salgo finchè lei non è morto eh ricarichiamo venga venga ma c'è qualcun altro intorno? no ok la musica è finita quindi penso che sia morto allora allora adesso noi però non dobbiamo passare su se no non è morto ma li mortacci stracci allora vuol morire? eh seccante eh allora dicevamo eh devo stare a dobbiamo fare attenzione a non passare sopra queste trappole leo dobbiamo arrivare alla scala attenzione qua ce ne sono tre eh ce la possiamo fare ok vediamo se davanti nooo ma dai ma vaffa lo dannati labirinti allora da qua non si va ma si salta? anche no quindi dobbiamo proprio passare fare lo slalom con questa visuale ok ce l'abbiamo fatta leo vai su perchè c'è qualcosa che sbrilluccica quindi noi dobbiamo prendere oggetti vari chiave per la miniera ce l'aveva lui ma chi è? ma chi è? un momento un momento ma chi è? ma anche vengono dalla scala dove vengono? da dove arrivano? uh eccoli che non vengono anche da stare ma li mortacci stracci signora sia indietro io glielo dico da inizio gioco che deve stare indietro eh vado a fare la massaia dico io no olè tutti morti no 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 eh ma insomma voi insistete io vi devo uccidere eh non è che sto qui a pettinare bambole io eh e dai eh vai piantina sì abbiamo preso tutto leo? mi pare che sì allora scendiamo qui non c'è niente qui c'è una cassetta ok qui ci sono due barili ok prendere che è che? ok mi pare che non c'è più niente possiamo proseguire carichiamo per cortesia anche se no ci beccano sempre che stanno scarichi proprio di brutto ok di qua eeeh qui non sì c'è una piantina rossa dimmi che se apre con la chiave se apre certo hai usato la chiave per la miniera con caudella aspetta un attimo aspetta aspetta ok ok scusa un attimo per curiosità no? ma proprio giusto per curiosità esatto no no ok niente andiamo oh madonnina ma che cos'è un ragno? ah madonna madonna no non faccia così per cortesia non la vedo prendere beh questi sono trappoloni eh oh madonna e mo? vado? corri corri leo corri 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 e mo si chiuda la porta guarda non si è chiusa strano mi sento troppi rumori troppi brutti rumori brutti rumori saranno ancora sti ragnacci malefici? ah non vedi i barili qua aspetta un attimo oh sta a crollare tutto lacrima viola speriamo che non crolla cioè che crolla prima che noi speriamo che non crolla prima che noi siamo usciti via via Damos Damos che non mi fido salve qui sono tutti morti male prendiamo i proiettili prendiamo i proiettili piantina mamma mamma cioè proprio alla proprio alla indiana jones aspetta un po' un attimo ma ma no qua non possiamo andare vabbè allora andiamo saltare giù ah ecco aspetta c'è la leva Leo eh ma c'è la leva Leo eh ma scusa eh ah da là aspetta vai vai saltare giù no? non ti piace? no niente allora da qua che devo fare? la devo azionare con con un colpo? ma dubito? ah invece si ma li morti oh non vedi questi ah 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 affrittellati no prendere prendere mannaggia la misera mi sono persi oh 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 ah non vedi signora no eh eh no eh no non si fa 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 via lei vada via vada via grazie ma di meteo curiamoci Leo ma ma ammazza che trappolone che ci hanno teso abbina a questa rossa curiamoci oh oh non vedi questi eh no non ce l'abbiamo fatta aspetta sta morto sia lì sia lì è meglio che manteniamo le distanze non so quanto sia saggio stare qui al primo carrello oh oh madonna ma che ha fatto ha azionato lo scambio oh è venuto qualcuno signora ma sempre lei io non lo so eh ma ve la cercate però eh ma veri quanti so grazie ragazzi eh lei che fa eh vabbè ma voi volete morire male però eh ditelo allora ditelo no no non salto prendere prendiamo scusi lei perché ha girato lì grazie ammazza hai capito il percorso di Indiana Jones è pericoloso io sento lamentare ma c'è qualcuno moribondo munizioni della pistolona ma io mi metterei qui perché ecco cioè mi metterei qui sto saltati tutti qua incredibile signora eh no no lei non è il tipo di Leo guardi te lo posso assicurare attenzione sulle cioppette aspetta ah ancora questo e natevene si villager maledetti curiamoci Leo perché ho paura che poi mi muori male aspetta eh abbina a questa ok eh usiamo ma cioè questa non c'è affatto una ceppa meglio di prima questo è tosto eh vada discesa discesa abbiamo qualcuno dietro Leo qualcuno dietro in due salve non avete paura eh aspetta un attimo aspetta un attimo ammazza grande Leo vai Leo vai Leo vai Leo vai Leo vai Leo e dai Leo su eh grande cioè ci mancava che me cadevi qui eh ce l'abbiamo fatta mamma mia no abbiamo lasciato un sacco di roba Leo vabbè proseguiamo eh mamma mia chiaro mi 인